Questo in realtà per me sarebbe voluto essere un appuntamento un po' organizzativo, con i ragazzi con cui ho più confidenza per poter iniziare una serie di appuntamenti sul tema macroeconomico, di politica economica generale. In realtà poi è stata l'esigenza di Marina, di Chiara, di fare un'introduzione preliminare per gettare le fasi su un discorso comune e credo che sia anche opportuno. Allora ho chiesto la cortesia a Marco che è caro amico, che se poteva venire a darmi una cosa, è sicuramente più competente di me, si è portato dietro lo stato esaurito che è sicuramente più competente di me, sicuro. Vengono da uno da Lunghietta, l'altro da Guidonia, quindi sono fatti una bella passeggiata, nel caso quindi mi lascio più competente di me, loro non sono lì totalmente a titolo gratuito ovviamente perché qua i soldi ci stanno. E l'idea di padre nasce sicuramente da un'esigenza forte, cercare di capire, da un discorso comune, voletti quello che sta succedendo perché stanno cadendo pezzi di continuo della nostra società, che stanno da tutte le parti. E come ho scritto oggi in qualcuno magari a letto, stiamo vivendo davvero dentro una coperta piccola che si sta restringendo sempre di più, questa coperta che copre i nostri diritti sociali. Per quanto tu la poterate verso una battaglia sacrosanta, come per esempio la tutela del nostro territorio, quando la tiri verso di te, inesorabilmente stai scoprendo qualche altro diritto. Perché siamo vittime di un sistema che non garantisce più i diritti della nostra Costituzione al 100%, ma li sta riducendo in maniera cannibale, perché ci stiamo con questo mangiando l'uno con l'altro. Io lascio adesso un po' chiusi la parola a loro che ci prometteranno che funziona la moneta, a che cosa serve la moneta, perché è stata creata la moneta, le differenze. Vi chiedo, se sia da abbassare la soleria del telefono, ovviamente, le differenze che ci sono tra la lira, prima dell'81, dopo l'81, la differenza che c'è con l'euro, l'euro con le altre monete, e perché la moneta è uno strumento importante, essenziale per individuare, cioè capire perché a cosa serve la moneta, se vogliamo vivere in un paese democratico. Quindi cercheremo di capire in che modo la moneta è strumento di democrazia, oppure di controllo. Cercheremo di fare un quadro generico e lasciare il più spazio possibile alle vostre riflessioni e per poter condividere insieme le sensazioni. Poi io vorrei anche ritagliare una parte dove gettare le basi di un incontro futuro. Mi auguro già lunedì 20 di fare un altro incontro. Ho alcune idee che vorrei raccontarvele, ma vorrei sentire cosa pensate. Quindi lascio la parola a Marco e Valerio. Anzitutto sono tutti quanti. A differenza di Valerio qualche anno di più, perché faccio parte di quelli che erano contentissimi quando abbiamo cominciato in Italia ad avvicinarci all'Europa. Felicissimo. Il che da una parte è stato un attimino qualcosa di cui mi sono poi tentito. Perché? Non ho intenzione di fare un discorso particolarmente tecnico. Carlo mi ha chiesto se potevamo portare delle slide o altro. Ho pensato che fosse più semplice parlarne e basta. Almeno per questa parte non voglio entrare in dettagli che oltretutto non sono necessari. Perché c'è un problema di base che va compreso, che è proprio del meccanismo. Prima cosa, vi rassicuro, non stiamo parlando di signoraggio bancario, di complotti oscuri. Nessuno di noi pensa che ci sia qualche casta di illuminati che governa il mondo. No, no. Stiamo parlando di funzionamento semplice e lineare, di sistemi economici, di macroeconomia e di strategie aziendali di grossi gruppi finanziari, assolutamente alla luce del sole, quindi nessun complotto oscuro, semmai una strategia finanziaria assolutamente scoperta. C'è un esempio che rubò a Warren Mosler che chiarisce molto bene un concetto che in qualche modo ci è sfuggito negli ultimi tempi, che è quello di come funziona la moneta. Siamo stati tutti quanti abituati a credere, e ancora molti di noi lo credono, che in qualche maniera la moneta sia rappresentativa di un controvalore. Fino agli anni 70, fino a che vigeva il gold standard, fino al 1971 ufficialmente, in qualche modo la moneta era rappresentata da un controvalore in oro, per cui la quantità di moneta circolante rappresentava la capacità d'acquisto dell'oro che veniva conservato nelle banche centrali del paese. Questo non è più vero di fatto dal piano Marshall, quando gli Stati Uniti hanno cominciato a stampare i dollari per mandare aiuti, ufficialmente dal 1971, dalla fine del gold standard. Dopo quel momento è nata una grande confusione. Su cosa si basa la moneta? Io sono cresciuto pensando che fosse in qualche modo legata al PIL, alla quantità totale di banche che il paese era capace di erogare. Non è vero niente. L'esempio che fa Warren Mosler è molto semplice. prende un pezzo di carta e dice questo è il mio biglietto da visita. Chi di voi è disposto a lavorare 4 ore in cambio di biglietto da visita? Nessuno. Adesso vi dico che alla porta c'è un tizio armato che ho pagato che non vi farà uscire di qui se non gli dà almeno 2 biglietti da visita. Improvvisamente ci saranno persone che saranno interessate a lavorare in cambio di biglietto da visita. La moneta funziona così. La moneta ha valore perché lo Stato viene con le armi e vi dice se non paghi le tasse nella mia moneta io ti metto in galera. Fino. Tutto il sistema della moneta si regge solo e soltanto sulla domanda e sull'operta. Non c'è un valore intrinseco. Ciò che viene richiesto ha valore. Finché c'è la domanda c'è un valore. La domanda viene creata con la forza, con le armi. Fino. Non c'è niente di poetico, non c'è niente di romantico. È un sistema assolutamente freddo. Il primo ruolo delle tasse, il più importante, è quello quindi di creare la domanda. A me è stato. Quindi che cosa costa creare la moneta? Niente. Il costo di stampa. A questo punto vi pongo un altro problema. Quello che si studia all'inizio di qualunque corso di economia. Cioè, se io emetto la mia moneta e diciamo all'inizio dell'anno nella mia nazione ho emesso mille petechioni. Alla fine dell'anno tasso tutti quanti voi e mi trovo ad avere mille petechioni di tasse. La domanda è semplice. Quanta moneta è rimasta in tasca ai cittadini? Zero. Esattamente. Questo ci porta ad uno degli elementi più importanti, fondanti dell'economia che è i saldi finanziari di settore. L'ho detto bene? I saldi settoriali. I saldi settoriali finanziari di Wayne Godley. Cioè, ogni Stato ha una contabilità che in qualche modo può essere rappresentata come una partita doppia. Entrate e uscite. Noi prendiamo l'intera economia di uno Stato. Qualunque stasia non ci poniamo problemi di giustizia o di altro. Facciamo un'analisi puramente grossolana. E la dividiamo in tre settori che sommati danno la totalità. Pubblico, privato, estero. Il pubblico spende con la spesa pubblica, che sono le uscite, incassa con le tasse. Entrate e uscite. Il privato spende con le tasse, con la spesa e incassa soldi dalla spesa pubblica, in qualche maniera. In certo modo possiamo dire che il saldo del privato sono i risparmi. Il settore estero è quello che serve a bilanciare perché i soldi vanno dentro e fuori, quindi consiglio più o meno a metterlo sempre all'import e all'export. Ora, visto che i soldi che escono da una parte entrano da un'altra, è abbastanza ovvio capire che la sova dei saldi di questi tre settori fa zero, perché i soldi se sono usciti da una parte sono andati da un'altra. Non c'è dubbio. In qualunque economia, il settore estero, cioè l'import-export, non impatta mai per una cifra significativa o sopra il 10%, se l'economia è sana ha un impatto che è anche inferiore al 5%, diciamo il 10%, veniamoci nel caso pessimo. Questo vuol dire che per il 90% il risparmio dei privati coincide con il deficit dello Stato. Se lo Stato non è in deficit, i privati non hanno risparmi. D'altra parte abbiamo detto prima, se io non ho speso moneta, che non riprendo indietro, come fate voi a averne? Io ho remessa la moneta. Se io la riprendo indietro e non rimango in deficit, ecco là che il risparmio non c'è. Esatto. Sul volantino che non so se l'avete lì, è rappresentato il saldo finanziario dei settori, che non è un teorema, è la rappresentazione di dati reali che rispecchiano esattamente il saldo finanziario dei settori di coperti, anche perché questa non è qualcosa da provare, è semplicemente un'analisi e una suddivisione di ciò che esiste, puramente aritmetica. Questo discorso non sta ancora andando a guardare la curva di distribuzione fiscale, di distribuzione della ricchezza, il benessere, no, è un approccio esclusivamente macroeconomico. Quando parliamo di settore privato intendiamo tutto il settore privato, quindi intendiamo i lavoratori, intendiamo le banche o qualunque cosa. Ma qualunque cosa vada ad orientarsi poi a una giustizia sociale di qualunque tipo riguardo alla divisione della ricchezza di questo settore. E se questo settore non ha ricchezza c'è poco da dividere, indipendentemente dall'approccio politico che si può adottare o si può scegliere per andare poi a dividere il saldo del settore privato. Quindi mi posso preoccupare di garantire il lavoro, di tassare di più ricchi o meno, posso decidere che i ricchi si devono arricchire o no, ma in ogni caso sto dividendo quello che è il saldo finanziario del settore privato. E se questo saldo finanziario non c'è, non sto dividendo niente. Questo ci porta a una seconda considerazione, il deficit pubblico. Alla fine dell'anno il deficit pubblico è la differenza tra quello che lo Stato ha speso all'inizio dell'anno e in che modo ha speso. L'ha speso pagando spesa pubblica, pagando stipendi pubblici, pagando opere pubbliche, emettendo titoli e alla fine dell'anno è accassato con le tasse. Se non c'è questo deficit non c'è nessuna ricchezza che rimane al settore privato. Se per caso le tasse superano la spesa pubblica e quindi mi trovo ad avere un avanzo primario, io sto sottraendo ricchezza al settore privato. Il problema è, quando lo Stato ha un deficit, ha un debito, viene chiamato debito pubblico il consolidato di un tutti i deficit di esercizio di ogni anno più gli interessi di ciò che è stato messo come titolo, come debito. Ma è un vero debito? Prendiamo l'Italia degli anni Ottanta, prendiamo l'America di oggi, come diceva Alan Greenspan che era il direttore di destra peraltro della Federal, quindi non parliamo di un rivoluzionario. Il debito pubblico americano, Alan Greenspan diceva, qualcuno può pensare che non saremo in grado di pagarlo, è la promessa che noi in cambio dei titoli vi daremo dei numeretti su un conto corrente, crediciamo noi, e che in cambio di quei numeretti vi daremo dei dollari, credi stampiamo noi, come facciamo a non averli? non è un debito se si deve qualcosa che non sia, in questo senso Matthew Forstater suggeriva di ridenominare il debito pubblico conto per il mantenimento del tasso di interesse, cioè non è un vero debito, è una scrittura contabile che lo Stato ha con la sua banca centrale che tiene conto di quanta moneta hai messo. Ma se voglio ripianarla, l'hai detto. Quindi noi siamo arrivati, quindi, in questa situazione negli anni 80 in cui l'Italia poteva spendere con debito pubblico. Non eravamo certo ben governati, eravamo in una situazione, me lo dico, abbastanza disastrosa, senza volerlo nascondere, ero tra quelli che tiravano la monedina a Craxi. In questa situazione comunque siamo stati, ad esempio nell'84, il paese che nel momento in cui aveva il record del debito pubblico aveva una disoccupazione inferiore all'8% ed era il primo paese al mondo per risparmio privato. Punto. Adesso, governati da grandi uomini, da tecnici dell'economia, continuano a ripeterci che l'Italia ha un problema di debito, non ci dicono che sono anni che l'Italia è in avanzo primario. L'Italia da anni sta incassando di tasse più di quello che spende per la spesa pubblica. Continua a rimanere negativo il bilancio perché c'è un deficit composito del debito pubblico precedente. Per il pagamento degli interessi. Per il pagamento degli interessi, esattamente, interessi compositi. Ma di fatto sono anni che l'Italia si sta impoverendo. Impoverendo da un punto di vista materiale, perché non vengono a togliere fisicamente la casa, tolgono la moneta. La moneta non è un bene che abbia un valore, ma con la forza, se non paghi le tasse, io la casa te la tolgo. Quindi, di fatto, finché accettiamo questa imposizione forzata, noi stiamo conferendo un valore a questo strumento virtuale che di fatto è un'istituzione sociale che era moneta. Nel 1981 c'è stato il primo grande strappo, il primo buco in questo meccanismo che ancora, se vogliamo, era un problema, ma era un problema risolvibile. Dando retta a Friedman, un economista neoclassico, quasi tutti, non quasi tutti, buona parte degli stati occidentali, hanno dato colpa dei problemi economici e dell'inflazione agli stati spendaccioni, alla spesa pubblica esagerata. A posteriore sappiamo che questa era, il termine tecnico era una cazzata, scusate, proprio una cazzata. C'è stato un problema di sciocco petrolibili che hanno inciso sulla spesa e che hanno causato un innalzamento dell'inflazione. Questa cosa si è chiarita velocemente, ma è rimasto il concetto, sbagliato, smentito, è rimasto. Gli stati non devono spendere, devono invece rivolgersi ai mercati che sono virtuosi. Quindi uno stato che può spendere a piacere, con l'unico rischio, se spende e spande, di far aumentare l'inflazione, ma la riduce con le tasse, si trova invece a prendere soldi in prestito dal mercato. Il che ha un controsenso. Cioè lo stato che emette moneta la deve chiedere in prestito al settore privato. Se ci pensate è pure complicato da concepire come ragionamento. A seguito di questo atteggiamento, perché poi non è altro che un atteggiamento, non c'è stato un cambiamento strutturale vero, ci fu la famosa lettera di Andreatta a Ciampi, allora Presidente Andreatta, Ministro del Tesoro, Ciampi era il Presidente della Banca d'Italia, in cui diceva Andreatta a Ciampi che la Banca d'Italia non è più vincolata ad acquistare i titoli di Stato. Quelli che rimangono invenduti sul mercato primario, quindi sull'offerta di titoli di Stato, la Banca d'Italia non è più obbligata ad acquistarli. Per inciso, questa regola è sempre stata valida per la London Bank, che non è mai stata pubblicata ad acquistarli. Ma esattamente come la Federal, essendo controllata dallo Stato fanno l'interesse dell'economia dello Stato, li acquistano pure senza obbligo, ne scherziamo. Altrimenti che succede? Succede che per vendere l'invenduto io sono costretto ad alzare i tassi di interesse. Ed ecco lì l'innalzamento del debito pubblico, perché Ciampi l'ha preso alla lettera, nel senso più dannoso per l'economia italiana. Quindi non ha più comprato i titoli di Stato. Bene. Tutto l'invenduto rimaneva invenduto e andavano alzati i tassi di interesse, emettendo titoli di Stato che erano sempre più onerosi in termini di interesse. A un certo punto di vista il problema già c'era, ma era un problema relativo, perché in ogni caso lo Stato stava offrendo ancora quei famosi pezioni, stava offrendo carta che stampava, per cui non era un problema vero. C'era un innalzamento numerico del tasso di interesse, un innalzamento del debito pubblico, ma come abbiamo detto non era un vero debito. Già da quegli anni ha cominciato a girare però tutta una manfrina che poi c'è rimasta. Quanti di voi hanno sentito che da bambini ognuno che nasce in Italia ha sulle spalle un debito? Ma di che? Abbiamo detto prima che il deficit dello Stato è il credito dei cittadini. Quindi ognuno che nasce in Italia ha in tasca, mediamente, quel credito che corrisponde al debito pubblico. Non è un debito. Il debito non è dell'Italia, è il debito dello Stato che è l'emissore, il soggetto che emette valuta a costo zero. Quindi non è un debito, è semplicemente una nota. Ti devo mille, ciao, che non mi costa niente a produrre, niente di più. Qui poi è subentrato il vero casino. Quando siamo entrati nel meccanismo dell'euro, non voglio scendere nel dettaglio, nei tecnicismi, tutta la parte dello SME, dell'allenamento, dello sgancio montaneo, vado ancora per macro concetti. Quando l'Italia è entrata nell'euro, che cosa è successo? Prima cosa il debito pubblico, che prima non era un debito, ma era una scrittura votabile, è stato ridenominato in una valuta che non era più proprietà dello Stato italiano. A tutti gli effetti una valuta straniera, visto che nessuno in Italia mette euro, noi avevamo qualcosa che non era un debito e abbiamo deciso, tutti contenti, di trasformare in un debito. Ci siamo accollati il debito che non esisteva prima. Prima genialata. Seconda genialata, lo Stato non può più emettere soldi, li deve chiedere in prestito alle banche private, alle banche private i soldi vengono dati in prestito dalla BCE, che emette non soldi, perché dal giorno della conversione, quando tutti quanti i soldi che circolavano in Europa sono stati convertiti in euro, la BCE non ha più emesso soldi come spesa pubblica, la BCE ha solo e soltanto emesso crediti. Le banche private hanno contratto un debito con la BCE, gli stati hanno contratto un debito con la banca privata. Da quel giorno sono cresciuti i debiti, è aumentata la quantità di moneta circolante man mano che aumentavano i debiti, ovviamente, perché la moneta veniva emessa solamente come debito verso banche private, verso una banca centrale straniera, e in realtà la quantità totale contabile di moneta circolante è diminuita per effetto degli interessi e per effetto del fatto che una moneta forte veniva usata come valuta di riserva, infatti sono cresciute ad esempio in Russia le masse di euro monetarie. Dal giorno della conversione sono diminuiti gli euro, letteralmente. Oggi noi abbiamo un'inflazione di circa l'1%, i prezzi sono andati crescendo dal 99 ad oggi, i soldi sono andati calando. Ma non nel senso che ognuno di voi prende di meno perché lui ci sta rimettendo, ma no, sono andati calando globalmente. Cioè nel sistema macroeconomico dell'Europa i soldi sono di meno. O meglio, la quantità di credito che c'è in giro al netto del debito che è stato fatto con le banche è diminuita. Perché se ci sono più soldi è perché ho acceso più debiti. Siamo tutti più indebitati, molto più indebitati a cominciare dagli Stati che si sono inventati un debito, trasformando in un vero debito quello che prima sotto la voce debito pubblico un debito non era. Questo sistema è caratterizzato da una banca centrale che non è sotto il controllo di uno Stato. La Federa funziona teoricamente alla stessa maniera. È una banca che è controllata dallo Stato, più o meno come la BCE, diciamo che è controllata dall'Europa, non scendiamo neanche nel dettaglio dell'assoluta antidemocraticità dell'istituzione europea perché lì sarebbe da piangere, però la Federa ha due mandati. Garantire il valore del dollaro nel rispetto della massima occupazione. Possibile. Garantire il debito pubblico. La BCE ha un solo mandato. Garantire il valore dell'euro. Fine. Metà del primo mandato della Federa. Il valore dell'euro è più importante dell'occupazione. Il valore dell'euro non tiene conto dei debiti pubblici. Lo Stato ha i debiti. La BCE se ne frega. Quindi uno Stato può fallire, cosa che era impensabile prima, perché appunto se dovevo ripagare un debito pubblico bastava che stamparsi moneta. Ora possiamo fallire. il default era qualcosa di assolutamente impensabile prima. Si poteva avere un default tecnico su un debito a essere, ma mica dei boccati non devi dare i dollari che non hai. Aspettano i paghi, come è successo in Argentina. Non è che qualcuno è andato lì a mettere le bombe perché hanno fatto un default sul debito. Oltretutto cantare l'Argentina è andata in default quando ha fissato la parità tra peso e dollaro. Quindi è stata proprio in quel loro caso rinunciare alla sovranità monetaria che li ha portati al default. Prima leggeva Valerio, su quel pezzo di carta della Grecia, le caratteristiche della polis. Quali sono le prime qualcuno le legge lì? Uno. Uno. Cioè il numero uno. E nel telepolita. Cioè l'abbiamo trovata lì. Già l'era una cosa. A me sta valendo. No, 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 no. La politica è la decisione della cosa pubblica. Adesso indipendentemente dal fatto che si può essere di sinistra, di destra, di centro, c'è un concetto che può essere chiaro a tutti. Se io non posso disporre, se io Stato non posso disporre dell'economia, sto decidendo di idiozie. Sto decidendo di, anzi non di idiozie, di cose anche importanti, ma che sono di fatto collaterali. I diritti civili sono importantissimi, ma se non sono garantiti i diritti sociali e le risorse per sostenere i diritti civili, sto parlando di niente. Posso decidere di equiparare le nozze gay alle nozze heterosessuali. Sì, tanto con vogliono i fami tutti allo stesso modo, che problema c'è? Posso decidere che deve esserci un titolo di spesa per portatori di entica, ma questo vuol dire che sto togliendo spesa ai disoccupati, perché i soldi non li sto più emettendo. Ci hanno convinto che la spesa pubblica è pagata con le tasse e questa è un'idiozia. Lo Stato parte, oggi c'è l'Unità d'Italia. Scusate, come fa l'Italia appena formata a pagare la spesa pubblica? Da dove le prende le tasse quando comincia? La spesa pubblica viene pagata con il deficit, con l'emissione di valuta. Quello che rientra non serve a niente, lo posso anche bruciare, perché tanto l'anno prossimo ricomincerò con una spesa pubblica. Gli economisti chiamano il drenaggio della valuta in eccesso che serve a controllare l'inflazione, perché se io metto soldi a pioggia, quello che ottengo è di avere tantissima valuta in giro a fronte di una quantità di beni irrisoria e quindi sale l'inflazione. Cara il valore della valuta perché ce n'è tanta e i beni sono quelli. Allora per drenare la valuta in eccesso uso le tasse, primo ruolo delle tasse, drenare la spesa pubblica e controllare l'inflazione. Inflazione che è bene che ci sia. L'inflazione è fondamentale. Se non avessimo inflazione, immaginate di trovarvi in una situazione di inflazione negativa, come ora la Spagna e come sta avvicinandosi la Grecia. Siamo in un sistema, in un regime in cui il dollaro, la moneta, il pelicchione, l'euro oggi vale meno di quanto varrà tra sei mesi. L'imprenditore contrae un prestito per produrlo e un bene e venderlo, quando lo mette sul mercato incasserà di meno di quello che ha speso. Quindi non solo non potrà pagare gli interessi, ma non potrà neanche pagare il capitale sul prestito. L'inflazione è in qualche modo quello che permette al tempo di assorbire la spesa impiegata, il prestito, l'investimento, di ammortizzarlo e si bilancia un po' con i tassi di interesse che vengono controllati dallo Stato tramite l'emissione dei titoli. E questo ci riposta ai meccanismi. Perché allora mettere titoli di Stato? Perché mettendo titoli di Stato io controllo il tasso di interesse. Una banca non può inventarsi che ti dà lo 0,3% di interesse se io Stato e metto titoli al 4%. Se io Stato e metto titoli al 4% io ho fissato il debito, il tasso creditore al 4% minimo. Non ci sono santi, ho fatto una forzatura che non è la legge. Se io impongo le cose per legge per la polizia che ti viene ad arrestare se non le rispetti, ci sarà sempre qualcuno che trova il modo di svipolare, ha fatto la legge e ha trovato l'inganno. Se io di fatto creo la condizione per cui sia automaticamente rispettato col tasso e mettendo il titolo, fine. Tu puoi anche mettere un tasso di interesse al 2% e nessuno di calcola perché i titoli di Stato vanno a 4 e ora invece che ti ha risolto alla banca e li do allo Stato. Problema risolto. Quindi il primo compito delle tasse è quello di drenare la valuta in eccesso per controllare l'inflazione. Il secondo compito delle tasse è quello di agire da leva fiscale e quindi disincentivare i comportamenti non virtuosi e incentivare quelli virtuosi. Il concetto di virtuoso e non virtuoso è politico. Ad esempio posso tassare la benzina e dare sconti fiscali sull'eolico e sul metano. E questo serve nuovamente non a imporre le cose per legge ma a rendere conveniente il comportamento giusto. In modo che non sia necessario andare per fucile in tutte le case per far rispettare un comportamento giusto ma diventa automatico e vantaggioso. Terzo ruolo delle tasse? Dunque abbiamo detto quello di imporre la moneta e quello di imporre la moneta. Il primo in assoluto è quello di dare forza alla moneta. Cioè senza le tasse di euro nessuno li vorrebbe. Potremmo usare i dollari o un po' altra cosa. Questi sono i tre compiti fondamentali delle tasse. I soldi che vengono ritirati, la maggior parte degli economisti post-kenesiani, sulle tasse, se vuoi lo faccio rientrare nella leva fiscale, quello poi dipende, qui stiamo sul livello macroeconomico, per cui consideriamo le tasse a livello complessivo, c'è quanto tasso la società. Non mi sto neanche addentrando poi su qual è la divisione fiscale all'interno. Lì la questione diventa politica. Ma qual è la domanda? La mia, che ho fatto notare che c'è un quarto, la quarta funzione a cui servono le tasse è quella per eliminare le disparità sociali, per evitare, ma adesso ho capito il terzo futuro. Entriamo sul politico, cioè finché ci teniamo sul macroeconomico, analizziamo il sistema senza andare a vedere divisioni tra classi, tra individui, tra nord, sud o altro, ci troviamo di fronte a una quantità aritmetica che non ha bisogno di scelte ideologiche di nessun tipo. Oggi l'Europa sta spingendo solo e soltanto nella direzione del controllo dell'inflazione. Abbiamo un'inflazione che va dall'1 al 1,5% fino a casi di inflazione negativa, il che è drammatica. Abbiamo una disoccupazione giovanile che è stata a 40-45% a 57% in Grecia, una disoccupazione reale, non solo giovanile, che è superiore al 30% sebbene censita. Abbiamo un'inflazione all'1%. Una delle cose che ho imparato a sto tempo è la domanda fondamentale di qualunque questione economico-politica, cui protesto, a chi conviene. L'inflazione ci viene spesso ripetuto da più iniqua delle tasse, però vi riporto alla situazione dell'84, quando la maggior parte degli italiani ha comprato casa, avevamo un'inflazione che andava alle gradente al 15-20%, avevamo un risparmio privato al 24%, avevamo una disoccupazione sotto l'8% e io francamente se l'inflazione è la più iniqua delle tasse, a quella situazione ci devono essere molto volentieri. Se c'è un'inflazione, se il denaro perde valore, la casa perde valore, no, aumenta di prezzo, il valore della casa è quello, oggi vale 100.000 vedecchioni, c'è un'inflazione al 10% e varrà 110.000 vedecchioni. Il valore rimane costante, perde valore da valuta, non perde valore il bene. Questo discorso vale per tutti i beni, vale anche per il lavoro. Tant'è che vi ricordo che negli anni 80, col 15-20% di inflazione c'era la scala mobile, per cui il lavoro che è il bene era comunque agganciato all'inflazione, quindi il lavoro e lo stipendio non perdevano valore. L'unica cosa che perde valore quando il denaro perde valore, perché il denaro, che ci rimette, questo è proprio obbligo, cioè quello è inevitabile, che se il denaro perde valore, il denaro ha perso valore. Chi ci rimette quando il denaro perde valore? Chi invece di avere beni ha denaro. Grossi gruppi finanziari, fondi di investimento, banche d'affari, i proprietari dell'ABCE in pratica. Perché l'ABCE non è statale, ma è proprietà delle varie banche private e centrali grosse e di fatto è colpa. Stiamo parlando di Ciampi, la sua decisione è stata tutto fuorché orientata al benessere dell'Italia, è stata nella stessa identica direzione, nell'81, quando Ciampi ha... è 81-84, il divorzio del 1981. Nell'81, quando c'è stato appunto il divorzio della Banca Italia del Tesoro, Ciampi poteva benissimo decidere di continuare come faceva la London Bank a comprare il listato residuo di emissione. Ha deciso di no. Perché in questo modo saliva il valore del denaro. Il valore del denaro è importante che salga. L'inflazione è bassa, fa salire il valore del denaro. La scarsità di denaro fa salire il valore del denaro. Se l'acqua c'è ovunque, l'acqua non ha valore. Se l'acqua esce da una sola canna di una sola fontanella, chi la controlla ha un grosso valore. Se gli Stati non possono spendere, non solo i soldi dei gruppi finanziari sono garantiti, sono fondamentali, controllano le economie di interi paesi. Non è un caso che le proposte finanziarie vengano da JP Morgan, Goldman Sachs e non in maniera nascosta. Per questo non parlavo di complottismo. Due anni fa JP Morgan è andata alla Commissione europea a chiedere, ufficialmente potete andare a trovare gli atti, che fossero fatte pressioni sugli Stati europei perché fossero tolte dalle costituzioni dei paesi dell'Eurozona le pregiudiziali antifasciste che rendono difficile adottare le politiche di risanamento sociale opportuno. Ma non è un complotto, è una foto proprio... scritto nero su bianco, ufficiale, sul sito della Commissione europea, lo trovate in tutte le lingue. Per questo dico che non c'è nulla di nessun complottismo oscuro. C'è una strategia finanziaria assolutamente lineare con degli interessi assolutamente chiari. Ci viene ripetuto spesso che il problema è la spesa pubblica, lo Stato spendaccione, che il problema è la corruzione. Che sono gli evasori fiscali, fondamentalmente. Gli evasori fiscali, ma loro sono il problema. Torniamo a livello malattico. Lo Stato è in avanzo, sta incassando più di quello che spende, sta impoverendo i cittadini italiani. Per assurdo se non ci fosse evasione fiscale saremmo ancora globalmente più poveri. È una cosa grottesca. L'evasione fiscale è un problema di giustizia civile e sociale, ma a livello macroeconomico in questo momento sta contribuendo a frenare l'impoverimento complessivo. Quindi per assurdo, ed è un assurdo, ve lo dico da persona che odia gli evasori, in questo momento se non ci fosse evasione saremmo messi ancora peggio. Perché avremmo ancora meno valuta che circola. chiaro che i grossi evasori, i soldi c'è da Narekajman, perché lui non è che sta giustificando valuta evasione, né sta giustificando evasione in sé. Però al livello numerico non possiamo che constatare che se non ci fosse evasione ci sarebbe meno valuta che circola. Oltretutto la spesa pubblica è fondamentale, non è un problema, è una risorsa. Lo Stato che spende sono i cittadini che incassano. John Maynard Keynes, che non era esattamente Lenin, diceva che piuttosto che tenere due cittadini disoccupati e pagare per le loro spese, per la loro disoccupazione, per il danno sociale che arregano, perché questo comporta anche delinquenza, è più conveniente a livello sociale pagarne uno perché scade una buca e un altro perché la riempia. In questo modo, il perfetto esempio di spesa pubblica improduttiva, la cosa più brutta e cattiva che ci viene divinta, questa spesa pubblica improduttiva deve avere due redditi che avranno ricadute su tutto l'indotto e che aumentano la domanda aggregata. Quello che abbiamo in questo momento, la crisi che abbiamo oggi, è una crisi di domanda, mancano i soldi, la gente non compra, le ditte, le aziende, i costruttori si ridanno nei tempi i loro prodotti e quindi è inutile aiutarli perché tanto quelli continuano a non vendere. È inutile salvare le banche perché un'azienda che fallisce per poter essere ricostruita ha bisogno di mesi e di anni a seconda del tipo di azienda per ricostruire tutto l'indotto, tutto ciò. Pensate che fallisce la Fiat quanto ci vuole per rifare un'azienda che piega tanta gente. Se fallisce una banca, per rifare una banca ci vogliono 24 ore. Noi stiamo aiutando solo le banche, che sono l'unico tipo di azienda che potremmo far fallire senza preoccuparci. Meglio salva un calzolaio che salva una banca. Il calzolaio fa la spesa, compra il pane e per fare il calzolaio serve il mestiere, serve la bottega, servono gli attrezzi. Per fare la banca serve una stanza al telefono e il capitale. Bene, non serve nient'altro, vi faccio. Ah, collegamento a internet, esageriamo. Quindi stiamo salvando le banche, non stiamo salvando le aziende, soprattutto anche salvare l'azienda sarebbe relativo, cioè finanziamento ai piccoli e medi imprenditori. Date agli clienti, non gli date i soldi. Il problema del piccolo e medio imprenditore che non vende è che lo Stato non paga i conti. Quindi ci riporta sempre allo stesso punto comune. Quello che manca è la spesa pubblica. Tutti quelli che vi dicono che la spesa pubblica ha un problema e che ci sta creando disagi, stanno in realtà portando il discorso all'opposto di quello che è. Una spesa pubblica improduttiva è più vantaggiosa di una riduzione di spesa pubblica. Fa chiaro che si fa una spesa pubblica produttiva fatta bene e meglio per tutti, ma intanto se triplicassero le aldo blu avremmo più risorse, più stipendi che vanno in giro che aumentano domande aggregate e che risollevano e che aiutano la piccola e media impresa. Cioè, paghiamo gente di scavare per riempire le buche, paghiamo le aldo blu o qualunque cosa sia, cioè anche le cose più brutte, più sbagliate, sono più d'aiuto che ridurre la spesa pubblica. E questo, penso di aver detto abbastanza enormità per la prima mezz'ora. Ci sono domande che andiamo avanti? Io ho una seconda cosa, tu hai detto adesso che hai fatto un esempio di euro per uno, stiamo considerando il discorso della spesa senza però affrontare a chi vanno i soldi, cioè è determinata anche a chi vanno i soldi, non so quanto ne entro e quanto ne entro, perché a me personalmente, sì, che si rendono piano blu, non c'è nessun ritorno, perché nessuno di noi abbia ritorno. Eh sì, a parte il fatto che so due, questa risposta è dubbio, da una parte è macroeconomica, cioè se consideriamo il settore privato e il suo complesso, i soldi vanno al settore privato e comunque ne beneficia, quindi c'è un beneficio complessivo. Questo approccio macroeconomico si riflette anche su di te, sulla microeconomia, perché se io all'improvviso ho 5.000 stipendiati di auto blu, questi comprano casa, comprano il domani, comprano le scarpe, vanno in giro, comprano i vestiti, comprano, spendono. Questo aumento di spesa causa un aumento di domanda, l'aumento di domanda viene immediatamente sopperito dall'offerta ed è quella che ti danno il lavoro. E la domanda, una delle più grosse truffe che c'è nell'economia, quella dei neoclassici, è che approcciano l'economia dicendo che l'offerta pilota la domanda. Ora, potete essere bravi finché vi pare, ma vi sfido a vendere ghiaccio agli estimesi. È la domanda che comanda sull'offerta. Io posso mettermi adesso a offrire a un prezzo stracciato una macchina che schiaccia gli abiti. Quanti di voi la comprano? Schiaccia gli abiti? Sì. Mi interessa? No. Invece ci sono domande che, al contrario, è facile vedere che se la gente ha bisogno di pane, qualcuno che fa il pane spunta fuori. Non ci sono stati, perché conviene. Se c'è domanda, diventa automaticamente conveniente sopperire con un'offerta. L'offerta non pilota la domanda, la domanda pilota l'offerta. È chiaro che con un'offerta strategica posso influenzare la domanda, e pesantemente, però non la posso stravolgere. Quindi la prima cosa a cui devo dare ascolto è la capacità di creare domanda, quella che si chiama domanda aggregata. Complessivamente la capacità di spesa del settore privato e pubblico è quella che crea domanda a cui viene data una risposta con l'offerta e quindi con il lavoro. Con il crollo della piccola e media impresa, con il crollo delle grandi imprese perché non vendono più, abbiamo la disoccupazione. L'aumento della disoccupazione, che è un dato numerico non banale perché passiamo dal 7-8% alla disoccupazione giovanile del 35%, quindi parliamo di numeri importanti, è quello che poi causa la diminuzione del reddito complessivo, perché in una famiglia lavorano in due o lavorano uno o nessuno, c'è una bella differenza di reddito. Inoltre la disoccupazione permette di comprimere i salari. Se io ho una disoccupazione forte, io tratto il lavoro come un ricatto. O accetti una riduzione salariale o ti licenzio, perché il lavoro diventa prezioso. Quindi una buona disoccupazione garantisce la possibilità di comprimere i salari. Se aumenta la domanda, aumenta l'occupazione, diventa più forte il tuo potere contrattuale e perde forza il potere contrattuale di chi offre lavoro. Perché a quel punto c'è bisogno di merci, c'è bisogno di produzione, c'è bisogno di lavoratori, non c'è bisogno di lavoro. E quindi diventi più forte nel contratto. I sindacati che si preoccupano di salvare le imprese. No, no, si preoccupano di salvare il loro posto. Sì, ma al di là di questo, anche facendo finta che i sindacati siano buoni e che i sindacalisti non se ne occupino, noi abbiamo avuto negli ultimi anni i sindacati che portavano come argomentazioni in maniera pubblica, non come dire mi salvo il mio posto ma non lo dico. No, l'argomentazione ufficiale è che dobbiamo salvare l'impresa. Ragazzi, il ruolo del sindacato non è quello, ma il sindacato perde potere contrattuale se l'offerta di lavoro è più debole della domanda di lavoro. Domande e offerta sono le uniche cose che contano e che comandano, sulla moreta come sul lavoro. Prego. Prima di fare la mia domanda, collegato all'argomento delle autoblue e degli sprechi, diciamo, io immagino che siano due cose un po' scollegate, nel senso che gli sprechi, le autoblue e l'evasione, comunque, prima dell'arrivo della crisi, diciamo, degli ultimi anni, secondo me, erano cose comunque da sconfiggere. Poi, adesso immagino che questa crisi esagerata non è collegata a qualche spreco, ecco, diciamo, penso che siamo due ragomenti un po' scollegati. Però sul primo c'è una considerazione, scusa, ti vedo subito la parola, proprio due secondi, di John Maynard Keynes, che diceva, ogni volta che taglio la spesa, una spesa di qualcosa, ad esempio, taglio una spesa pubblica e produttiva per un'auto in blu, il giorno dopo qualcuno si sveglia e vedrà decurtato il suo reddito. Il giorno dopo qualcuno, dove lui spendeva, vedrà decurtato il proprio reddito. C'è un moltiplicatore della spesa pubblica che è molto maggiore di uno, perché lo stipendio che io pago fa sì che lo stipendiato poi spenda e compri beni e servizi. Quando io davo una spesa, anche produttiva, io sto comunque portando un danno sociale, per cui dovrei investire la stessa spesa perché diventi una spesa produttiva per la società per i beni e servizi, ma non dovrei mai tagliarla. A meno che non ci sia tanta domanda sul settore privato da potermi permettere di tagliare la spesa pubblica perché sta andando tutto molto bene. Vai. Allora, la domanda è che qui non è mia, ma parlando, sentite, non so neanche se... Cioè, mi hanno detto, ma se non cambiassimo il valore per sperare questa crisi esagerata di questo momento, cambiare il rapporto fra svalutare l'euro, cioè come se salutavano una volta le monete locali, rispetto al dollaro. Non lo so, non è possibile. Tutto ciò che in qualche maniera è un rapporto tra valute è sempre dato dalla domanda e dall'offerta. Una valuta che è rara ha più valore. L'unico modo che avremmo per svalutare l'euro sarebbe quello di inventare l'euro. La BCE non può farlo. La BCE non può per mandato comprare titoli di Stato sul mercato primario. Si può comprare sul secondario. Diciamo che per assurdo, mantenendoci nelle regole attuali, quando uno Stato emette crediti, titoli, boli del tesoro o altro, la BCE non li può comprare. Li comprano le banche, li comprano i gruppi finanziari e poi la BCE può comprarli dal loro, dal banca. Però se la BCE si dichiara disponibile a comprare buoni sul mercato secondario, è quello là che sul mercato primario li compra più volentieri. Tecnicamente quindi la BCE potrebbe acquistare titoli di Stato, ad esempio della Grecia, acquistare titoli di Stato per un valore superiore a quello del debito greco e metterli in consolidato e dire io questi debiti, questi titoli non li esigerò ma così il debito della Grecia gli verrebbe nuovamente un debito adatorio, sarebbe in mano al BCE. Ma se fosse stata questa l'intenzione non saremmo nella situazione in cui la Grecia chiede un prestito per pagare gli interessi sui prestiti precedenti della proga. L'intenzione è esattamente opposta. Teoricamente si potrebbe fare. Praticamente l'intenzione politica, strutturale, istituzionale è esattamente opposta. Potremmo cambiare direzione, potremmo avere una BCE sotto il controllo dello Stato perché se io ho un emettitore di valutare sotto il controllo di uno Stato, allora posso cominciare a pensare che lo Stato imponga la banca centrale di garantire il debito. Scusate, dentro là c'è il telecomando, perché lo spediciamo? Non qui se muoio. Scusate, è il porto. Sì, sono d'accordo. Sì, è un problema. Il problema allora non è l'euro ma è il controllo, cioè è la parte politica dell'Europa, ma l'euro è il risultato del fatto che chi lo controlla sono i mercati e non qualcuno che pensa a popolo. Ma l'euro ha una parte politica. La moneta è un'istituzione sociale. La Germania ha accettato l'adesione alla moneta unica ponendo il vincolo che mai ci sarebbero stati, e questo è importantissimo, non lo ricordo ogni volta, è Miano Brancaccio. Mai ci sarebbero stati trasferimenti fiscali dall'uno all'altro degli stati membri. L'esistenza dell'euro è una barriera che impedisce qualunque avanzamento verso una forma unita, federale, statale dell'Europa. Impedendo l'unità fiscale, l'unità politica è assolutamente fuori luogo. In questo momento l'istituzione sociale, chiamata euro, impedisce un'unione europea. Sono i trattanti alla base dell'euro che lo impediscono. Quindi hai ragione, non è la moneta euro, ma è la definizione della moneta euro che sta impedendo questo meccanismo. Quindi dipende da che cosa intendiamo la parola euro. Il pezzo di carta potrebbe rimanere, ma dovrebbe essere completamente ricondato. Non siamo attaccati ai pezzi di carta, ma non siamo stati a vervi a Montessori, nessuno si ha sentito male. Ma il valore che c'era dietro era sempre garantito da un'unità statale con un'unità fiscale. Pensate a quello che è successo all'Italia, dall'unità d'Italia fino all'adesione all'euro. Il nord ha sfruttato il lavoro del sud, pesantemente, ma il più grosso contributore fiscale italiano, la Lombardia. Le tasse della Lombardia pagavano le spese del sud. È in massa una disparità, non sto dicendo che fosse giusto, ma il trasferimento fiscale dal nord al sud ha in qualche modo permesso di mantenere l'unione italiana, l'unità politica italiana. Perché se si fosse limitata l'Italia a sfruttare il sud e il lavoro del sud per fare avvicini al nord, senza compensare con l'unione fiscale, quindi drenando più al nord che al sud e spendendo più al sud che al nord, saremmo controllati. L'unità fiscale è assolutamente necessaria per mantenere un'unità monetaria. In questo momento l'unità fiscale è assolutamente impedita dall'euro e dai trattati su cui si fonda, principalmente Maastricht e risposta. In questo Bagnai dice molto chiaramente che questo sistema crolla. Questo ormai risponde. E allora mi chiede perché? Perché crolla, perché crolla, crolla perché... Ma bisogna vedere cosa si intende per Europa. Eeeh... Ma PC. Cioè le banche. Le banche. Eeeh... Ohhhh... Avete sentito che stanno privatizzando il Partenone? Avete sentito che stanno privatizzando il Partenone? No. Che stanno privatizzando il Partenone? Tutte le università greche sono state privatizzate, la televisione pubblica è stata privatizzata, la polizia è praticamente stata privatizzata, affidata in buona parte all'erocerfo, perché abbiamo detto prima che la moneta si regge sulla forza. La prima istituzione dell'Europa è stata l'euro, la seconda la polizia, l'erocerfo. Ovviamente. Perché quando sono cominciate le rivolte in Grecia, il capo della polizia ha detto che non avrebbe attaccato i manifestanti disoccupati, l'hanno preso, l'hanno riposta e hanno mandato l'erocerfo. Subito. Prima applicazione della polizia, perché la moneta si basa sulla forza. Prima mi baso sulla forza degli stati vinti. Quando poi pian piano gli stati cominciano ad andare a gamma all'aria è il caso che la forza sia centralizzata. Quindi il primo passaggio è la moneta e il secondo passaggio è la polizia. Il punto è che quando c'è stato qualche anno fa solo l'ipotesi di un referendum fatto dal partito socialista greco, di un eventuale referendum sulla permanenza o meno nell'euro, la notte in cui è stato detto tutti i vertici militari e i greci sono stati rimossi. Per quale motivo? Date la risposta da subito. Sì, ma perché la greca? È il primo obiettivo. C'è stato un obiettivo. Allora, l'Europa si legge su un'asse che è Germania e Francia. La costruzione dell'Europa come inquietà politica ha degli interessi finanziari, ma richiedeva un appoggio politico di base. L'appoggio politico di base è stato l'asse franco-tedesco. È stato garantito, in qualche modo, alla Germania di portare avanti una rinunificazione a spese dell'intera Europa. All'epoca, quando è caduto il muro, se ne parlava della spesa distribuita di rinunificazione. Poi non si era più il panguardo. La Francia ha spinto questa cosa, pensando, e questo è il teorema di Alain Pargueri, – fino adesso nessuno è riuscito a smentirlo, poi si verrà se funziona – di riuscire a combattere la Germania su che terreno. Nel momento in cui io non posso più svalutare, perché tutti usano la stessa valuta, che modo ho per aumentare la mia competitività? Prima di tutto notiamo che, avendo una moneta unica, l'import-export diventa fondamentale. Non posso più badare al benessere della mia economia. Devo preoccuparmi dell'export. Mentre in un'economia sana, me ne prego, conta il PIB interno, il prodotto interno che è quello che conta, e l'export ha un ruolo marginale, quando la moneta è unica e io non posso più spendere per il mercato interno, i soldi devono venire da fuori, l'export che diventa fondamentale. Non possiamo stare tutti bene. Chi sta bene ha preso i soldi agli altri. Se uno vince, qualcuno perde. Infatti, se l'operaio non c'è guadagna, cosa c'è guadagna? L'operaio in Giambagna non guadagna. E qui c'è guadagna. E qui c'è guadagna. 400-450 euro. 8 milioni di tedeschi sono sotto il programma lavorativo chiamato mini-job. Senza totale sindacale, senza terribili sociali, 450 euro al mese. Anche i vecchi pensionati sono riandati a lavorare a 450 euro al mese. 8 milioni di tedeschi, stiamo parlando di questo. La Germania... Qualche altra Germania che... No, parliamo... La Germania aveva nel 2012 il percentuale più alto di lavoratori sottopagati dell'Unione Europea. il 25%. Fonte Eurostat. Fonte Eurostat. Ok. Le riforme Ars, 1, 2, 3 e 4, hanno permesso alla Germania di usare la Germania dell'Est come un mercato degli schiavi. Hanno compresso il costo del lavoro, al punto che oggi giorno ci sono tantissime aziende polacche che esternalizzano in Germania. Perché costa di meno lì il lavoro che in Polonia. La Francia pensava di riuscire a far passare una riforma del mercato del lavoro per un governo socialista. Pensavano di riuscirci. La Germania li ha battuti sul tempo. Le quattro riforme Ars. Hanno creato un esercito di schiavi. Di gente che colavora globalmente part time, in realtà anche più di 40 ore a settimana, per degli stipendi che vanno dai 300 ai 450 euro. Milioni e milioni di lavoratori sottopagati alla fame, senza diritto alla pensione, senza nessuna garanzia sociale, senza indemnità di disoccupazione se non sono licenziati. Nulla. E quando ci dicono, almeno in Germania hanno i mini job, in realtà ci stanno dicendo almeno abbiamo la schiavitù, possiamo accettarla. Perché lì diventa veramente una questione di schiavitù. A parte i trucchi che ha fatto la Germania con la banca di investimenti, per cui ha nascosto il debito pubblico, lasciamo pure perdere questo aspetto. La Francia pensava di fregarli sulla compressione del mercato del lavoro e è rimasta fregata sul tempo della Germania. Attualmente l'Europa è divisa in due. Gli unici due che guadagnano, e che in parte come le due, erano la Germania che esportava gli altri e la Francia non si occupa più di produzione ma si occupa di costruzione. Il commercio, ma la produzione impiega le persone. Il commercio, guardate i vari Hauchan, Carrefour, è tutto francese la distribuzione. La distribuzione impiega pochissime persone in rapporto alla produzione. E quindi la disoccupazione francese è altissima. Quando diciamo che la Germania guadagna, non stiamo dicendo che guadagnano gli operai tedeschi. Per guadagnare a livello complessivo le aziende tedesche stanno comprimendo il costo del lavoro e quindi stanno sfruttando gli operai tedeschi. Un operario tedesco in questo momento è molto meno garantito anche di un operario italiano. Poi è chiaro che in alcune zone c'è ancora un reddito più alto che è un ruolo strascico, un residuo che si sta battendo, peraltro. Di altri tempi in cui la Germania dell'Ovest spendeva e faceva spesa pubblica alla grande, quando compravano da noi, quando l'Italia era la prima economia europea e la Germania era in crisi. Ed era la crisi che garantiva gli stipendi, perché se non c'è scesa pubblica non c'è credito. Alcuni miti sono assolutamente falsi, come il fatto che la Germania è virtuosa, non è virtuosa, sta sfruttando i lavoratori. Cioè quello che ci stai incontrando da noi? Io vi ricordo, alcuni, senza andare a parlare di macroeconomia, vedo che non siamo tutti i primopero, qualcuno sarebbe da mia. Vi ricordate negli anni 80 una banda, quanto costava? Una banda 45? Costava un terzo di una chiesta. Vi fa la parola. Nel 2000 la chiesta e la banda costavano uguali. Ora Marchionne è anche quella. Ma se all'improvviso, nel sistema di convergenza valutaria che ha portato l'Unione Europea, la lira è stata forzosamente rivalutata del 30-40%, e una banda ha cominciato a costare quanto una chiesta. E' chiaro che la fiesta non vende più all'estero. Parallelmente, all'interno dell'Italia i soldi venivano drenati con la diminuzione della spesa pubblica con l'avanzo primario alla fine di ogni anno e non venne più neanche dentro. Quindi, Marchionne sarà un delinquente, la fiesta è quello che è, ma quando la banda costava un terzo della chiesta, la gente se la comprava. Ora che costa più di una chiesta, perché non dovrebbe comprare? Qualcuno mi scrive. La chiesta è stata valuta più venduta al mondo. La chiesta è stata più venduta al mondo. Ed è tuttora prodotta sia nell'Europa dell'Est che in Sud America. di una chiesta di una chiesta di un'altra. Una cosa che raccontava è che era la Grecia. La Grecia ha ancora oggi il 19% di tutte le navi che sono colori nel mondo. Alla fine degli anni 90, c'era una petrolera nel mare del nord, vicino alla Spagna, che si rubbe e chiese aiuto per attraccare sulla costa gli spagnoli. Questo non era bene obiettato dagli spagnoli perché era un rischio ambientale. Fatto sta che questa mare si spezzò. Che cosa successe? Che da questo evento si obbligò tutte le navi ad avere un doppio scafo. Siccome in quel momento il 42% di tutte le navi del mondo avevano una bandiera greca, erano registrate con gli armatori greci, gli armatori greci ebbero un problema enorme rispetto all'interno del finanziario questa cosa della ristrutturare tutte le navi che portavano la bandiera. Diciamo che è andata da lì, chiede che gli do le banche per fare questa operazione. Che cosa successe? Successe anche che gli armatori greci dovessero andare sul mercato finanziario per operare perché il bank non dava un credito in Europa e sul mercato greccio. I paesi asiatici, uno dei primi da proporsi come finanziatori di queste operazioni, in cambio pubblicamente dal fatto che i cattieri navali dovevano essere usati quelli del loro paese per cui si spostò l'attività economica di cattieri navali, che nell'Europa era il primo prodotto del mondo di navi, si spostò nel sud dell'Asia e qui ci fu un problema che i cattieri navali italiani anche andarono in crisi con i greci, con i fischi, con i fischi, con i 12 del programma che comunque ancora oggi la città viene al 19% di tutto il navitato che tiene il mare dal fondo. Per questo non è importante per il commercio che le banche finanziano e gli scambi commerciali. C'è una cosa che hai detto che tra l'altro è importantissima e quello che stavo dimenticando, sul cui protesta, chi conviene? Complessivamente questa situazione fa sì che l'economia di tutta l'Europa vada progressivamente a gambe all'aria. Quindi questa politica sembra difficile e uno pensa perché le banche dovrebbero fare una cosa simile visto che alla lunga ci metteranno altro l'ora. Questo ci porta però a una considerazione che dovremmo già aver capito ma che in realtà spesso non viene afferrato in piega. Sappiamo tutti che l'economia, le aziende, la produttività sono controllate ormai dalla finanza. Questo immagino che non sia qualcosa che studisce nessuno. Bene, quello che è cambiato è il time frame della strada del tempo. Un'economia fa piani per quest'anno, per i prossimi anni e per i prossimi decenni. La finanza non ha niente che sia più in là del next quarter, del prossimo trimestre. Alla lunga andremo tutti male il prossimo trimestre, i miei soldi sono stati di valore, non c'è nient'altro che conti. Il fatto che le economie vengano controllate dalla finanza significa che possono tranquillamente andare al suicidio. Quello che conta è il guadagno nell'immediato, nell'ex quarter. Chi decide non ha una dimensione temporale che veda più grande i prossimi 3-4 mesi, mai. Ed è terribile questo fatto, perché riguarda le aziende, le banche, riguarda tutti. Vi vorrei raccontare una cosa che mi è successa a me questa settimana. Su una pratica finanziaria che una banca qui italiana, posso anche dire che oggi è italiana ma dettagliamente è francese. Una società che non ha problemi, rifiutata, la motivazione non rientra nelle strategie della banca finanziare questo tipo di attività. Dimmi solamente quale sono le attività che finanziate, i colattieri, i farmaci, le indorinate pochi altri. Giù, ora è il guadagno, lì la parla, in realtà è il guadagno. Ma questo è il guadagno. Guardi, sono ciniche di non tributo, che è un giù, quello più importante, è come quello che, una cosa brutta, è il guadagno all'attributo, perché poi le facono dispetto da voi, e questo è il primo punto il secondo punto c'è Michael Hudson se vi capita se avete occasione abbiamo una serie di interviste video tradotti sul canale YouTube di Eurotruffa e ce n'è uno particolarmente importante di Michael Hudson sulla pianificazione dell'economia e va a generalizzare chi erano gli amministratori delegati all'inizio erano gente della produzione poi nel dopoguerra poi sono stati avvocati poi sono stati militari quando c'era il periodo bellico poi sono stati esperti di marketing quando è cominciata la pubblicazione negli anni 60 oggi come oggi sono tutti espressioni della finanza e dagli anni 80 è partita un'altra cosa che ha fatto crollare la produttività le stock options quindi io sono un capitano di industria che cosa mi conviene fare? investire 5 milioni di euro sulla ricerca per una nuova linea che poi va testata che va collaudata e poi bisogna vedere il mercato la pubblicità oppure io che faccio con quei 5 milioni compro le stesse azioni della mia azienda in questo modo salgono di valore e le stock options che io mi sono dato salgono di valore certo ho portato la ricerca però è convenuto e che mi direste se ci perpassi 5 minuti grazie a tutti